Ciao mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. Come cambia l'asseverazione della congruità delle spese dopo il 15 aprile 2022, dopo l'entrata in vigore del decreto prezzi, decreto costi del MIT e del Ministero della Transizione Ecologica. Te ne parlo in questo video. Prima lascia mi piace al video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e se vuoi accedere alle agevolazioni senza fare errori o limitando al minimo gli errori possibili, ti consiglio di verificare i video per gli abbonati che trovi in descrizione. Puoi abbonarti su YouTube o su Gambrot. In entrambi i casi potrai accedere a dei contenuti esclusivi che aggiorno ogni settimana. Ne troverai già tantissimi, diverse decine, anzi oltre le centinaia, e ogni settimana aggiungo nuovi video dove vado a rispondere alle domande che mi vengono inviate via email. Il decreto prezzi del MIT è entrato in vigore il 15 aprile 2022, dopo che è stato pubblicato, dopo 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale che è avvenuta il 16 marzo 2022, decreto prezzi che contiene l'allegato A che va a sostituire l'allegato I del decreto requisiti del 2020, che contiene all'interno i costi massimi di determinati interventi di riqualificazione, di efficientamento energetico, i costi massimi ammissibili a detrazione. Abbiamo imparato che, nei due video precedenti abbiamo imparato, e anche in altri che abbiamo fatto oltre alle live, che i prezzi indicati nell'allegato A riguardano i costi della sola fornitura dei materiali necessari a completare l'intervento, quindi niente IVA, niente prestazioni professionali, niente manodopera, niente costi per le opere di installazione. Quindi ora, come cambia l'asseverazione? Come bisogna tenere in considerazione questo allegato A quando ci sono delle voci nelle nostre lavorazioni che rientrano in questo elenco? Ecco, bisogna fare un doppio controllo. L'Enea, dico sempre all'agenzia perché, vabbè, ok, sto aspettando ancora l'agenzia. L'Enea, insieme al Meet, ha pubblicato una serie di risposte a domande frequenti, sei risposte a domande frequenti, FAQ, che è tra le quali una di queste va a determinare, va a specificare come bisogna fare la verifica della congruità dei prezzi quando ci troviamo su un'opera, quando ci troviamo su un intervento che rientra tra quelli elencati nell'allegato A. Bisogna fare in pratica un doppio controllo. Dobbiamo verificare sia in base all'allegato A, il costo della fornitura del materiale, eccetera, eccetera, sia in base al prezzario di riferimento che stiamo utilizzando per quella voce. Quindi per quanto riguarda la fornitura, bisogna riferirsi all'allegato A. Per quanto riguarda la manodopera e l'installazione, i costi per la manodopera e per l'installazione, fai riferimento alla voce del prezzario che stai utilizzando. L'Enea ha pubblicato uno specchietto molto utile per quanto riguarda le asseverazioni delle spese sostenute, eccola qui. Abbiamo l'opera che stiamo realizzando, il primo controllo va fatto in base al prezzario, il secondo controllo va fatto in base all'allegato A e le opere relative all'installazione e la manodopera per l'installazione vanno fatte in base al prezzario, quindi va smembrato questo prezzo. Ecco, se il prezzo da prezzario, comprensivo di manodopera e tutto quanto, e fornitura, stiamo già sotto al prezzo indicato per lo stesso intervento nell'allegato A, stiamo a posto, ma quando ad esempio il prezzo è superiore bisogna andare a determinare i costi per l'installazione e i costi della manodopera da verificare in base al prezzario e i costi della sola fornitura che vanno verificati in base all'allegato A. Poi ci sarà l'effettiva spesa sostenuta e la spesa massima ammissibile sarà quella minore tra il controllo da prezzario e il controllo dal decreto costi massimi. Quindi mi chiederai, la detrazione, l'IVA, le prestazioni professionali, non rientrano comunque nell'agevolazione? Questo va a escludere queste voci dall'agevolazione? No, questo è lo specchietto per quanto riguarda l'asseverazione delle spese sostenute. Abbiamo visto nei video precedenti, in uno dei due video precedenti, che ad esempio le prestazioni professionali vanno determinate, devono rispettare il decreto del 2016, non vanno asseverate come opere realizzate. Per quanto riguarda l'agevolazione, ovviamente vanno considerate l'IVA, vanno considerate le prestazioni professionali. E anche qui, per quanto riguarda per determinare la spesa detraibile e ammissibile, l'Enea pubblica questo specchietto che va a schematizzare la verifica, la determinazione della spesa ammissibile. Ecco, la spesa massima ammissibile asseverata, che è quella che abbiamo visto prima, quindi la minore derivante dal doppio controllo, le prestazioni professionali che devono rispettare il decreto ministeriale del 2016, quindi si va a verificare la fattura del pagamento fatta ai professionisti, gli altri costi, ad esempio il visto di conformità, sempre si verifica in base alle fatture, e poi c'è l'IVA, che va determinata in base all'applicatibilità, quindi 10%, 22%, dipende, e va verificata anche qui a livello fatture. La spesa massima ammissibile per intervento, quindi la totale, sarà la sommatoria di tutto, ma la spesa detraibile andrà ad essere quella massima di intervento, quella in base ai massimali di spesa o di detrazione che sono determinati dalla normativa. Grazie.